Ora vi stavo dicendo, attenzione, questo è un 5G Porca miseria, che va più lento di un 4G Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale E' uscita la Team 5G Ultra Ma che cos'è? Il marketing di queste compagnie telefoniche, ragazzi, è un qualcosa di fenomenale Riesce a stravolgere la realtà Riesce a farci vedere con occhi diversi ciò che è la realtà Ma se noi a un certo punto puntiamo i piedi per terra e apriamo gli occhi Capiamo che è... Gesù mio Sono state presentate le nuove offerte 5G di Team Le hanno chiamate Ultra E guardando il loro sito si vede che addirittura la Ultra Che praticamente adesso è per tutte quante le nuove sim, le nuove attivazioni E' una tecnologia che ci dà una velocità addirittura fino a 2 gigabit per secondo, ragazzi E' tantissima roba con una priorità di navigazione in internet Anche in situazioni di sovraffollamento Che poi è la caratteristica del 5G Questo rende il cliente 5G Ultra di prima classe Non come tutti quanti gli altri poveracci Che invece si dovranno accontentare di un 5G Che forse proprio 5G non è Questo video è stato messo possibile da uno sponsor Che è iTopScreenRecorder Tra poco vi mostro anche il piccolo reel Guardatelo perché è interessante Nel frattempo potete iscrivervi al canale Potete attivare la campanella A voi non costa niente Ma a me è tanta roba Vi do, dai, qualche secondo per farlo 3 secondi 1 2 3 L'avete fatto? E se non l'avete fatto fatelo da capo Vi do altre 3 secondi 1 Iscrivetevi 2 Iscrivetevi 3 Oggi vi voglio presentare iTopScreenRecorder Che è uno dei migliori screen recorder In circolazione oggi su Windows Scaricarlo è semplice Basta seguire il link che ti metto giù in descrizione Vai su questa pagina Che è quella di iTopScreenRecorder E basta prigiare il pulsante Scarica gratuitamente Ok, salviamolo Dopo aver installato Si presenta questa schermata Che è molto semplice Attenzione Questo tondino Che è la cam che mi sta ricredendo Oh mamma mia Mi viene in mal di testa A questo punto vi basta semplicemente Cliccare l'opzione prescente Che può essere Registrazione dello schermo Che serve per registrare lo schermo Insieme alla cam e al microfono Webcam Che serve avviare semplicemente Una registrazione senza schermo Solo audio Vi permette di creare I vostri podcast preferiti E la modalità Gioco vi permetterà Di registrare Gli screen Dei vostri Giochi preferiti Una volta scelta la modalità Basta premere semplicemente Il tasto Rec E finito il countdown Lui incomincerà A registrare Tutto quanto Quello che avviene Sullo schermo Quando avete terminato La vostra attività Basta appingiare Sul pulsante Stop A questo punto Viene richiesto Se visualizzare il video Continuare a modificarlo Se cliccate sulla seconda opzione Vedrete questo Che è un ambiente Che vi permette Di editare molto facilmente Guardate qua La vostra clip preferita Una figata assurda Questo video Vi permette anche Con un tasto destro Di eliminare Il rumore di sottofondo Meraviglioso Mi raccomando Trovate tutti quanti Link in descrizione Grazie ai top screen recorder Mi spiego I clienti team Da oggi Avranno a disposizione Tre tipi di accessi Il primo E il 5G Fino a 2 gigabit Per secondo Ragazzi Complimenti E tantissima roba Ma il marketing È veramente Una cosa molto creativa E tutti quanti Gli altri clienti Cosa succede? Beh ci saranno Alcuni Che navigeranno Secondo loro Con l'offerta 4G Che consiste In uno strozzamento Della rete Fino a 150 megabit Per secondo In download E 75 megabit In upload Che comunque Non è male Ma qui Arriva La genialata La rimanente parte Dei clienti Potrà navigare In 5G Ma Limitato A 250 megabit In download E 75 megabit In upload Che non è male Nella maniera più assoluta Non è male Ragazzi Solo velocità Meravigliose Non erano le velocità Del 4G plus Queste Già Furbata Del marketing Allora Siccome Il 5G DSS Che Praticamente Condivide Una S Saper sharing Che condivide Lo spettro Delle frequenze Con il 4G Allora I direttori Del marketing Si sono detti Cioè I cappuccioni Hanno pensato Ragazzi Se una stanza È condivisa Tra il 4G E il 5G Vuol dire Che appartiene Sia al 4G Sia al 5G Quindi di conseguenza Possiamo chiamare Il 4G plus 5G Già Perché Praticamente È la stessa cosa Scompare il 4G plus Nella nomenclatura Loro Ma non Nella nomenclatura Tecnica Perché Quelle frequenze Quelle bande Quelle bande Nascono Per il 4G plus Nascono Per migliorare L'esperienza Dell'LTE Quindi Di conseguenza In questo momento Si sono appropriati Di una tecnologia Per il 4G Spacciandola Per 5G Il 5G Non nasce Per sfruttare Le frequenze Del 4G Il 5G E il 5G Punto E basta Quindi Praticamente Secondo il marketing Io già me ne immagino Tutti quanti Vestiti di nero Con il loro Cravattino No adesso Va di moda Essere fighi Va di moda Essere più friendly Quindi me li vedo Già tutti quanti Con la camicia Bianca E le maniche Bianche Arrotolate Col colletto Senza cravatta Che dicono Ragazzi Abbiamo trovato La furbata Abbiamo trovato Il modo Per mandare A culo Il 4G plus E farlo diventare Magicamente 5G Per tutti Peravigliosi Sono Fantastici Vabbè Sono fantastici Dai diciamo così Quindi dicevo Adesso Abbiamo Un 5G Di serie A E un 5G Di serie B Cioè Praticamente Abbiamo il 5G Vero E il 5G Che è il 4G Che adesso Si chiama nome Si è cambiato nome Si chiama 4 E' incredibile Quello che stanno facendo Ma non finisce qua Perché se esiste Anche il 5G Di serie B Dovete sapere Che esiste anche Il 5G Di serie C Ma come Si può andare Anche oltre Allora Premesso una cosa Il 5G Chiamatelo come volete Il 4G plus Insomma L'offerta di team Non è malvagia Direi che è un'offerta Anche molto buona Solo che E' un classico specchietto Per le allodole Fatto da persone Che ovviamente Non vivono Nella realtà Vera Vivono Nei loro Mega uffici Chissà Sparpagliati dove E che quindi Non fanno il conto Non incontrano Le persone vere Certo Loro hanno L'esigenza Di dover Spingere sul 5G Visto che le persone Si trovano benissimo Che con il 4G E raggiungono Velocità Anche da 200 megabit Con la semplice 4G plus Quindi di conseguenza Chiamarla 5G Diciamo così Dovrebbe essere Un peccato veniare Diciamo così Che è un rossissimo Difetto di comunicazione Io spero che L'agicom Deve fare una cosa buona Nella vita sua Dovrebbe mettere Un freno A questa Tipo di romenclatura Molto più trasparente E molto più diretta E' la comunicazione Invece Della 5G Di serie C Di Win 3 Sul sito di Win 3 Infatti Notiamo che Ci sono Giga Alla velocità Massima Di 10 megabit Cioè praticamente Io attivo il 5G E scopro di avere 10 megabit In velocità massima In download In upload Senza vincoli E riservata Chiaramente Ai clienti Che provengono da E' tutta una serie di Operatori Ora Su questa illimitatezza Cerchiamo di capirci Un attimo Queste non sono Sim di broker Per la telefonia Che offre veramente Traffico Illimitato E la gente Non si capacita Del motivo Per cui ci sono Sim che costano Oltre 20 euro Al mese Ma sono realmente Illimitate E sim come queste Che sono Si illimitate Ma attenzione Sono illimitate A patto che Il traffico Dei dati Non sia Superiore Occhio eh Per tre mesi Consecutivi Occhio Al traffico Medio mensile Di clienti Che hanno Offerte omogenee Praticamente Tu hai l'illimitato Ma Se Tutte le altre persone Che hanno offerte Analoga E fanno Diciamo così 500 giga Al mese Di traffico Se tu fai 501 giga Al mese Di traffico Per tre mesi Si sospendono La sim Per un uso Non corretto Quindi Ok Non è Illimitato E tra l'altro I prezzi Non sono neanche Bloccati per sempre Visto che Tutte e due le compagnie Team e Wind Inseriscono La clausola Capes Capestra O capestro Capestra Dovrebbe essere Ok Per cui Il contratto Si adegua Anche all'inflazione E sono problemi Ma come si fa A chiamare 5G Un'offerta Che è limitata A 10 megabit Qui sono stati Un po' più furbi Perché loro Di base Già usano Il 5G DSS Quindi non stanno Parlando di 4G plus Loro vi stanno dicendo Attenzione Questo è un 5G Porca miseria Che va Più lento Di un 4G Va a 10 megabit In download In upload E trovare le condizioni Del contratto Non è neanche tanto Facile Sul sito di Win3 Perché Se cliccate su Attiva Lui già Incomincia a raccogliere I dati Per attivarti Tutto quanto Il contratto Quindi I giga massimi Stanno qua Però Se andiamo Un po' più giù Vediamo che Nelle condizioni D'uso Laddove c'è scritto Offerte in edizione Limitata Scopriamo che Nella sezione Giga Illimitati Se si superano I gigabyte Un gigabyte Al Se si superano I gigabyte In un contratto Illimitato Stranissimo Il traffico Internet incluso È valido Solo per le Conezioni sviluppate Sotto Il 5G Dove sta E inoltre Cosa Fastidiosa Ma Di che stiamo parlando Se alla data Del rinnovo Dell'offerta Il credito Dovesse essere Insufficiente Quindi Avrò scelto Il metodo Di Che scale Il credito Residuo Il traffico Incluso Non verrà Bloccato Ma Verrà Per assicurare La continuità Di servizio Ma Chi verrà Chiesta La continuità Di servizio Sarà Resso possibile In anticipo Un giorno Solare Al costo Di 99 Centesimi Dio mio Quindi Se abbiamo La modalità Di pagamento Tramite Credito Residuo Un giorno Prima Rescata L'offerta Questi Mi tolgono Un euro Per garantirmi Il servizio E se io Volessi Ricaricare All'ultimo Momento Se io Decidessi Di non Caricare Quel mese Di ricaricare Il mese Successivo Pazzi Cioè Io Non so Che Io Stento A credere Come ci siano Delle persone Che Sono così Scollate Dalla realtà E che Hanno smesso Di ragionare Come della gente Normale Hanno incominciato A Fare Tutti quanti Questi salti Immortali Non è un caso Non è un caso Che Win3 Abbia Costantemente Sim In perdita Cioè Il numero Delle sim Continua a scendere Ogni anno Comunque sono riuscito A trovare il pdf Dell'offerta Ed è Un pochettino Strano Perché Insomma Non lo si trova Facilmente sul sito Ma basta andare su google Google Indicizza Tutti quanti i pdf Ed ecco qua il pdf Quindi Nel momento in cui Si sottoscrive Una mia Unlimited Con Easy Pay Qua dice Che Il download E l'upload Sono a 10 megabit Sono disponibili Meccanismi di quos A 10 megabit Quindi priorità pure C'è il servizio C'è il servizio volte Attivato E questa è buona Buona e giusta C'è una VPN Mai sentita nominare La Jambala Cerchiamola su internet VPN Jambala Vediamo È un qualcosa Che credo Che sia Soltanto Legata a Win 3 E chiaramente Occorre avere Uno smartphone Abilitato Per godere Di tutto quanto questo E io non so Che pensare Non so che pensare Perché Sembrano Offerte Veramente Non ben congegnate Perché Nel momento in cui Si fa un'offerta del genere Non va bene Cioè Team Cambia il nome A una tecnologia E ci spaccia Per 5G Ciò che in realtà È 4G e mezzo 4G plus Chiamatelo come volete Win 3 Ci dà il 5G Ti dice che è 5G Anche se è 5G DSS Ma comunque È almeno 5G E E me lo limita 10 megabit Raga Ma Parlare in termini chiari Fa schifo Cioè In fondo Nel contratto fisso Nel momento in cui Si vende un contratto fisso C'è scritto chiaramente Che quella velocità È a 100 200 1 giga 2 gigi e mezzo Perché non fare La stessa cosa Anche con il mobile Cioè Perché Spacciare una tecnologia Per un'altra Oppure dire 5G Limitato E poi In realtà È limitato Nella velocità E nel corretto uso Dei gigabyte Che stabilisci tu E non stabilisce Un qualcosa Di super partes Vabbè ragazzi Io che dire Ringrazio lo sponsor Che ha reso possibile Questo video Da Francesco Renzi è tutto Ciao ragazzi Alla prossima Commentate in maniera educata Ciao 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 Ciao